In occasione del Feel Good Festival di Abano Terme, la Confessa Centipadova ha promosso una serie di appuntamenti di reading letterario in alcuni locali del centro termale. I Colli Ogani sono stati per generazioni fonte di ispirazioni per importanti scrittori, poeti ed artisti, nonché amata dimora per Shelley, Bainon e il Petrarca. Lo scopo è quello, attraverso un progetto finanziato dalla Regione Veneto in collaborazione con il Galpa Tavino e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, noi di Confessa Centipi abbiamo pensato comunque di andare a valorizzare il territorio del parco letterario attraverso un momento che coniughi l'importanza di valorizzare gli operatori economici, in questo caso uno dei pubblici esercizi più storici di Abano, attraverso appunto una lettura di brani scritti nell'ambito del territorio del parco letterario e attraverso appunto la visitazione di un paio di itinerari che abbiamo individuato, uno che andava dalle parti di Musei Ceste, l'altro su tutto il territorio dei comuni termali. Questa nicchia di turisti e consumatori vengono nel nostro territorio ricco di tradizioni enogastronomiche, commerciali e di appunto ricettività non solo alberghiera nel territorio e hanno delle nuove motivazioni di turismo, di acquisto e di visita del territorio. Il tentativo è proprio quello di coniugare il paesaggio meraviglioso, così vario, così stravagante, così come hanno saputo descrivere i poeti e di offrire a tutti i frequentatori dell'area Uganea che amano passeggiare tra questi colli ma contobranamente anche soffermarsi e interpretare con la lettura di questi brani il paesaggio che sta davanti a loro e trovare appunto una corrispondenza con i brani letterari che andiamo a proporre.